Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Come avrete dato dal titolo Questi titoli svelano sempre tutto Questo video sarà una recensione di un prodotto Che ho ricevuto qualche mese fa E che vi avevo già mostrato in un paio di video E voi una volta visto mi avete chiesto Ma perché una volta che non lo finisci non ci fai la recensione Così almeno possiamo sapere se ti è piaciuto oppure no Io la recensione la faccio Non sono pagata per fare la recensione È di mia spontanea volontà Perché ho visto che ne eravate molto interessati Molti mi chiedevano se funzionava Io non ho mai saputo cosa dirvi al inizio Perché ovviamente non potevo saperlo se avrebbe funzionato o no Il prodotto in questione è il kit di sbiancamento per i denti Della Whiteweed Style Che è questa qua insomma Nella busta sì Adesso l'ho finito E perciò sono qui pronta a farvi una recensione Questi prodotti non so da dove vengono Sinceramente penso probabilmente dagli Stati Uniti Ma non ne sono sicurissima Il mio è gusto menta Ci sono tantissimi gusti Si riconoscono dal colore della bustina in cui arrivano Per esempio quella alla fragola è rossa E non lo so c'è quella con il cocco che c'ha Adesso vi mostro il contenuto del pacchettino Che è in una busta un po' tutta guaggita Ovviamente ci sono le istruzioni Sia di come adattare la mascherina per i denti Ai propri denti Che di come appunto usare il prodotto Le mascherine per i denti di cui vi ho appena parlato sono queste Poi all'interno abbiamo anche una silinga Che una volta conteneva questo gel alla menta appunto Dov'è che va messo questo gel? Ovviamente all'interno di queste mascherine per i denti Poi vi mettete le mascherine in bocca Poi prendete questa lucina Scritta anche di White with Style Ovviamente dovete accenderla prima La mettete in bocca E la tenete per mezz'ora Cosa si vedrà dopo questo trattamento? Ovviamente dopo un trattamento solo Assolutamente niente Infatti io dicevo Cioè vabbè che lo faccio a fare Magari c'è è una cavolata Non servirà a niente Però in realtà dopo il sesto Settimo trattamento Io ho iniziato a vedere dei cambiamenti Io non so se mi siete accorti Io credo veramente di avere i denti più bianchi Anche perché mia mamma me l'ha detto E in effetti poi Riguardando la scaletta Con tutte le gradazioni di denti Che è dentro il parchetto Sono accorta che effettivamente I miei denti si sono sbiancati Perché all'inizio erano verso il 13 Verso il colore 13 Adesso sono più o meno al 6 5-6 Quindi insomma L'hanno fatta di strada Dal primo utilizzo Fino a qui insomma Quindi secondo me Il prodotto ha funzionato Però ho visto anche diverse Recensioni negative Che veramente non capisco Perché secondo me Queste persone Si sono limitate ad usarlo Magari un paio di volte Vedevano che non succedeva niente Ovviamente perché Gli sbiancamenti che fanno Sono molto Molto lievi Quindi utilizzandolo una volta sola Non vedi assolutamente niente Quando io inizio una cosa Mi piace sempre portarla al termine Se anche alla nonna settimana Magari io vedevo che I denti Nanno come prima Io avrei continuato Avrei finito Sare arrivata alla decima E poi avrei detto Vabbè fai schifo Vaffanculo Ma insomma Ne è valuta la pena Se avete bisogno di un prodotto Per biancare i denti Io questo ve lo posso consigliare Ovviamente il prezzo È molto alto Si aggira sui 300 dollari Però Ho un codice sconto per voi Che è del 90% Perciò lo potrete comprare A solamente 30 dollari Il codice è Ginevra Il mio nome Con la prima lettera maiuscola Vale solamente per i kit Io non lo so Sul set ci sono diverse opzioni Voi dovete usare questo codice Per il kit che costa 269 dollari e 99 Che sarà poi come il mio Vi lascio nell'info box Il link al sito E il mio modice sconto Così potete andare a prenderlo da là E utilizzarlo se volete E quindi sì Non so se vedete il sorriso Spero che questo video vi sia servito E che vi sia piaciuto E quindi niente Vi mando un bacione E vi do appuntamento venerdì Prossimo con un nuovo video Ciao